Domenica parte anche l'Under 21 regionale, punto gardine delle competizioni giovanili del Lazio. Pietro Colantuoni è soddisfatto della risposta delle società e soprattutto dell'attenzione che si sta dando sempre di più alle scuole, piuttosto che alle prime squadre. Abbiamo avuto una piccola pressione sull'Under 21, però siamo aumentati con i seniore, siamo aumentati con l'allievo, i giovanissimi, insomma il settore giovanile e noi continuiamo ad andare bene. Quelle dell'AC1 e parecchie dell'AC2 che quest'anno si sono proposte per vincere il campionato sono tutte equipaggiate per l'Under 21. Si gioca sempre di domenica, non è riuscito lo spostamento della categoria a lunedì sera, anche e soprattutto per agevolare il campionato Juniors. L'orario purtroppo sono state le società che dicevano che stavano in difficoltà perché gli Under 21 non li potevano mandare in mezzo alla settimana a fare il campionato. Da domenica per la stagione 2013-2014 le maggiori competizioni del calcio a 5 regionale avranno ufficialmente avuto inizio.